Vini e oli spumanti e passiti. Il tutto in 500 pagine da sfogliare in un viaggio esplorativo nel gusto e nell'instancabile produzione delle colline che si diramano da Pesaro ad Ascoli Piceno. Eccola la guida delle Marche nel bicchiere 2021 curata dall'associazione italiana Sommelier Marche. Una bibbia dell'enoturismo regionale giunta alla tredicesima edizione ma anche delle sempre più eccellenti produzioni di olio che le Marche mostrano con orgoglio. Una regione che oggi schiera 5 vini di denominazione controllata e garantita, 15 DOC e un IGT che valorizzano vitigni autoctoni e di antica coltivazione impegnando 17.500 ettari vitati. Dobbiamo essere molto fieri del nostro settore vitivinicolo e oleario, abbiamo delle grandi eccellenze nella nostra regione, 15 DOC, 5 DOC, 1 IGT. Dobbiamo tenere alto il valore di queste produzioni così diversificate che beneficiano di una forte componente anche di investimento. Noi col PNS quest'anno vorremmo ulteriormente potenziare la crescita qualitativa di investimenti, di vinificazione, di promozione di questi vini per farli diventare eccellenze riconosciute in tutti i mercati, imponendolo sui mercati internazionali. Le Marche hanno una grande qualità produttiva, abbiamo delle aziende meravigliose, anche le piccole sono straordinarie come aziende, quindi la nostra diversità deve diventare un punto di forza. L'obiettivo che avremo nei prossimi anni è quello di migliorare il processo di produzione del vino e riuscire a migliorare anche la capacità di venderlo alzando il valore del prodotto stesso. La stessa cosa si può dire per l'olio, dove abbiamo tante produzioni di olio, dove la regione Marche ha un ruolo da protagonista perché con l'Assam fa anche da laboratorio e da certificazione ai produttori, creando un ecosistema che in qualche modo premia e valorizza la qualità. Ormai sono dieci anni che vanno pari passo il vino con l'olio. L'olio vuole fare la stessa strada del vino, quindi piccole imprese, fortemente qualificate, qualità e l'olio ha un qualcosa in più che quella della biodiversità. Pensate che noi abbiamo 23 varietà di biodiversità nelle Marche, una delle regioni che ne ha di più, con una qualità veramente d'eccellenza e all'interno di questa guida abbiamo la possibilità di conoscere quelle aziende che hanno investito, perché bisogna dire che ci hanno investito fortemente, sulla qualità, sul monovarietale. Ricordiamo che il monovarietale vuol dire che tutto l'olio al 100% è di una unica varietà, coroncina, che siano le varietà che noi conosciamo, vogliano di Fallerone, piantone di Fallerone o altri tipo la scolana. Quindi sulle tavole nostre e anche e soprattutto dei ristoranti e degli alberghi vorremmo vedere da adesso in poi gli oli monovarietali, perché effettivamente hanno una qualità eccellente e rappresentano il nostro territorio, perché una varietà esprime la sua potenzialità produttiva, anche con i sapori e con tutto quello che è poi, voi lo sapete, il Palen, che è la valutazione dell'olio, proprio perché produce in quel territorio, in quel terreno. Quindi qualità, territorio e ambiente, questa è l'arma vincente del nostro olio. Grazie.